Mira al mare Malè è la nuova mostra di Davide Mancini Zanchi dove dopo il lungo periodo di pandemia riapriamo lo spazio che comunque non ha mai fermato di produrre mostri e attività culturali che abbiamo fatto in questo periodo visibili dall'esterno. Ma finalmente si può rientrare all'interno dello spazio e visitare questa mostra straordinaria, un lavoro site specific realizzato da Davide Mancini Zanchi che inaugurerà sabato 10 luglio dalle 19 alle 22 per una grande festa, per un opening day, sempre rispettando le norme di sicurezza previste dalle normative Covid, però avremo veramente il piacere di accogliervi in questo spazio che è stato completamente trasformato. Il titolo della mostra, Mira al mare Malè, è un gioco di parole tra spagnolo, italiano e pesarese ed è una mostra che si sviluppa nei due ambienti del centro artificiale e pescheria, la chiesa dodecagonale in cui ci troviamo e lo spazio del loggiato, quindi il vecchio mercato del pesce. All'interno della chiesa troveremo un'installazione con 1200 dipinti che Davide Mancini Zanchi ha realizzato con la bomboletta spray andando a dipingere per giorni e giorni su una delle spiagge più famose di Pesaro, Baia Flaminia, mentre nello spazio del loggiato troveremo una serie di sculture in cui il mare sembra aver restituito dei legni che però hanno incluso degli strani oggetti come per una metamorfosi. L'altro elemento straordinario che troverete nel loggiato è una videoproiezione di 30 metri con un videogiochi della Playstation in cui il personaggio principale, Trevor, viene fatto sostare giorno e notte davanti al mare. Tutta la mostra è una riflessione molto attuale sul concetto di artificialità e naturalità, di ciò che è naturale e di ciò che non lo è, che è uno dei dibattiti più interessanti di questo momento storico. L'idea nasce e è nata come una volontà di uscire fuori in un momento in cui siamo costretti a restare dentro che è stato il momento delle restrizioni pandemiche dell'anno scorso e quindi volevamo rappresentare il paesaggio che in quel momento ci era molto lontano. Il momento di inaugurazione della mostra estiva in pescheria è il vero avvio dell'estate, almeno dell'estate dell'arte e quest'anno non poteva essere, non solo diversamente, ma non poteva essere migliore l'avvio perché è tutto un lavoro che ammicca un po' al mare, al mare di Pesaro. Un invito a vedere, un invito a rinfrescarsi, un invito a poi vedere anche il mare vero che è quello di Pesaro.